vincerete, ma perderete comunque, perché qualunque sia l'esito del referendum apparirà chiaro che si tratterà di un parlare d'altro, di una vostra playstation di palazzo rispetto alla reale situazione economica del Paese. Concludo, Signora Presidente, fra qualche anno sarà impietoso il confronto tra la Costituzione del 46-48, della quale pure, come ho già detto, non siamo certamente adoratori, e invece questo pasticcetto. Nella Costituente del 46-48 c'erano giganti a discutere, da De Gasperi a Togliatti, da Croce a Einaudi, da Nenni a Saragat a Calamandrei. Stavolta, Signori del Governo, questo prodotto costituzionale resterà come un sigillo di superficialità e incompetenza di questa classe dirigente e, mi spiace per voi, come lo ha ben definito Mauro Mellini, in particolare del suo nocciolo etrusco. Grazie. La ringrazio, Deputato Capezzone. Lì adesso è scritto a parlare il Deputato Rocco Palese. Prego. Sì, grazie, Signora Presidente. L'aula oggi è chiamata in ultima lettura a esprimersi su una modifica profonda della Costituzione. Io non ho nessuna difficoltà, avendolo sostenuto da sempre, Signora Presidente, che è un errore gravissimo produrre e attuare modifiche così profonde alla Costituzione, come è stata quella della modifica del titolo quinto del 2001, come fu quella anche proposta dalla centrodestra nel 2005-2006. E così come questa volta, perché modifiche così profonde della Costituzione necessariamente e obbligatoriamente avrebbero avuto necessità di essere fatte, prodotte, così come fu la Costituzione madre da un'assemblea costituente. Grave errore c'è fu nel 2001. Si continua a sbagliare anche oggi. Ed sono errori di metodo che poi si riflettono nel medito. Noi abbiamo avuto le bicamerali, c'è tutte fallite. La riforma a maggioranza è bocciata dal referendum. Ma riteniamoci che degli errori nel contesto delle riforme costituzionali siano stati fatti nel nostro Paese, perché prive di equilibrio. L'equilibrio tra i poteri, l'equilibrio nella gestione delle funzioni e quindi direttamente connesse con la vita quotidiana dei cittadini. Si è convinti che la legge costituzionale numero uno del 99, quella che passa e quella che è, come l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni e che non era e non è stata una riforma costituzionale che ha previsto solo quella disposizione dell'elezione diretta dei Presidenti di Regioni, sia stato un bene, cioè affidare al sistema delle Regioni tutta l'autonomia che è stata affidata, perché rispetto al titolo quinto e ancora c'è più federalista, la riforma costituzionale uno del 99 con l'autonomia delle Regioni, a farsi le leggi elettorali, a farsi tutte le disposizioni che hanno ritenuto regolamentari e non, in riferimento alla tassazione c'è continua che c'è stata in aumento quella locale e l'esplosione c'è della spesa con l'abolizione soprattutto dei controlli. La modifica del titolo quinto che ha creato più danni delle due delle mondiali al nostro Paese e alla finanza pubblica, di questo ce ne sono tutti convinti, ha provocato una serie enorme di conflitti rispetto a tutta quella che è stata la situazione del decentramento dei centri di costo, cioè l'autonomia e la responsabilità, signora Presidente, non c'è dubbio che è un valore assoluto, ma nel nostro Paese in questi ultimi 22 anni è stata recepita l'autonomia e la responsabilità da parte della periferia, di tutto ciò che è pubblica amministrazione della periferia, non come responsabilità e autonomia della gestione oculata delle risorse pubbliche, ma soprattutto come anarchia, che ognuno ha potuto fare quello che ha voluto, tanto che non c'è nessuna difficoltà a collegare anche l'aumento dei fenomeni di corruzione a questo. L'unico federalismo che è andato in vigore purtroppo nel nostro Paese, non avendo fatto il federalismo vero, col federalismo fiscale c'è vero, equilibrato, solidale, è solo il federalismo della corruzione. In tutto questo contesto si è passati a questa c'è riforma. Tra le situazioni che ci sono previste si parla del superamento del bicameralismo perfetto, dell'accelerazione dei tempi di approvazione rispetto al procedimento legislativo. Io non ritengo, leggendo il testo, che ciò possa accadere. Noi abbiamo semplicemente con questa riforma. Il Governo ce l'ha proposta, la maggioranza che se l'approverà da sola oggi questa riforma, provoca una sola conseguenza, quella che il conflitto che c'è stato a causa del modifico del titolo quinto tra le regioni e lo Stato, cioè viceversa, per situazioni a tutte note, si trasferirà nel nuovo Senato. La cosa più logica sarebbe stata quella, sia per la riduzione dei costi, sia per dare un segnale vero di fine a tutta questa situazione di conflitto che sicuramente si innescherà, quella di abolire completamente il Senato. Quella sì sarebbe stata una riforma seria, non che noi facciamo rimanere una struttura che non si capisce, cioè che cosa dovrà fare. Una cosa accadrà sicuramente, che il conflitto che ora c'è stato tra Stato e Regioni si trasferirà in quell'Aula, con Regioni, Comuni, Antilocali e quant'altro, che si contrapporranno comunque, perché quando ci sarà una legge di ristrutturazione e di contenimento di finanza pubblica, quell'Aula esprimerà parere e c'è contrario sempre. E allora ci sarà sicuramente una continua situazione che si passerà dal bicameralismo perfetto al bicameralismo del ricatto, del baratto, perché questo ci accadrà, con un'unica vittima, che è la tasca dei cittadini, e che sempre si è determinato in questi ultimi anni. Io credo che bisogna essere molto, diciamo, più trasparenti da questo punto di vista, perché ieri, signora Presidente, lei era presente, ha seguito tutti i lavori dell'Aula, il Presidente del Consiglio, tra le note positive che ha citato, è quella proprio del superamento e della modifica del titolo quinto. Io dico invece, cioè che si ingarbuglia ancora di più, perché sarebbe stato molto meglio definire le attuali competenze e ciò che accade, tirarlo fuori per bene nella conferenza Stato e Regione, nella conferenza unificata, e sarebbe stato sufficiente quello. Adesso noi abbiamo tre livelli, la Camera, il Senato, cioè che non si capisce che cosa dovrà fare o come ci verrà anche composto e eletto, e peggio ancora i governi, che comunque si dovranno confrontare tra governo centrale e governi regionali all'interno della Stato e Regione. Sono modifiche, diciamo, che non risolvono il vunus principale, che era quello di fare una riforma che doveva correggere le modifiche del titolo quinto del 2001. Non interviene in maniera decisa, in maniera pertinente. C'è qualche timido tentativo di centralizzare l'energia, ma di che cosa parliamo, signora Presidente? Di centralizzare è per bene, sarebbe stata la spesa pubblica. Di centralizzare è per bene, sarebbe stato i 110 miliardi di fondi della sanità, dove la corruzione regna giorno dopo giorno e dove non si fa niente. Cioè, noi avremmo fatto sicuramente cosa saggia nella modifica del titolo quinto se fossero stati rintrodotti i controlli preventivi sulla spesa pubblica. Allora sì che forse qualche segno di cambiamento ci sarebbe stato, perché l'abolizione dei controlli, fatta prima in parte dalla Bassanini e poi successivamente la modifica del titolo quinto, ha provocato l'esplosione della spesa del nostro Paese, soprattutto quella a livello locale, cioè con le addizionali che non si capisce più, tra regioni, comuni, le province stesse, che questa riforma dice di abolire. Bene, le province vengono abolite, ma dopo che sono state trasformate, dopo che sono stati presi in giro tutte, dopo che i costi continuano a aumentare e dopo che per la tassazione di addizionale di competenza delle province sull'assicurazione delle auto è stata elevata al massimo dappertutto. Cioè di questo ce ne dobbiamo parlare. Altro che di riforma c'è epocale. Non modifica assolutamente nulla, peggiora dal punto di vista di queste situazioni che riguardano i rapporti e le funzioni svolte, senza avere nessuna certezza di miglioramento. E che dire poi che il vero vulnus che c'è nel nostro Paese rispetto a tutto quello che riguarda la rivisitazione della finanza pubblica non è stato toccato per niente, è stato completamente eluso il problema dei problemi delle regioni a statuto speciale. Lo sappiamo perfettamente, cioè che le regioni a statuto speciale ricevono una valanga di risorse rispetto a tutte le altre in riferimento a delle modifiche che sono state già apportate a suo tempo. Ora, di tutto questo non si parla, cioè non c'è niente. Quindi perché non dovremmo dare l'apporto o consentire a queste riforme? Per questo la componente dei conservatori e riformisti è molto critica, perché non trattisi di una riforma necessaria del Paese. La si è voluta fare. Ritengo che sia una riforma monca perché non si è affrontato un altro problema, un altro tema, che non è solo caro al centro-destra, ma è delle democrazie moderne che è quello del presidenzialismo. Non pone rimedio rispetto a tutto quello che riguarda gli altri aspetti principali dell'equilibrio dei poteri e dello Stato all'interno di una riforma snella, di uno snellimento forte delle procedure e per questo motivo, ma anche tanti altri che rispetto al merito sono emersi, ma tanti altri ne emergeranno nel Paese, la nostra posizione, quella dei conservatori e riformisti, così come ribadito poco fa anche dal mio collega Cicca Pezzone, è di netta contrarietà, ma nel merito di questa riforma, una riforma sbagliata, una riforma timida, una riforma che il Paese aveva sì bisogno, ma di una riforma molto più profonda e più equilibrata. Grazie. La ringrazio, deputato Palese. E ora do la parola al deputato Ignazio Larussa. Prego. Grazie, Presidente. Vede, caro Presidente, cari colleghi, noi stiamo discutendo la riforma della Carta Costituzionale che oggi giunge a compimento. E questo dovrebbe essere uno dei momenti più nobili di un'attività parlamentare. Nella storia ci sono state addirittura rivoluzioni per ottenere la Carta Costituzionale. Il Statuto Albertino nel 1848 assunse il significato di un cambiamento epocale. I cittadini...